Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari, www.belsitoteldueturri.it È ufficiale, il biodigestore a Conza non si farà. C'è la delibera che revoca la disponibilità dell'amministrazione comunale ad ospitare l'impianto. Un atto che forse non è arrivato a cuor leggero, ma dopo una serie di incontri e scontri tra la maggioranza del sindaco Cappiello sia con altre amministrazioni del territorio che con la comunità locale, ad intervenire ai nostri microfoni e il consigliere comunale di maggioranza, no che consigliere provinciale del PD, Vito Farese. Beh, innanzitutto c'è il rammarico. Iniziamo col dire questo perché si era puntato su una si fatta realizzazione sul territorio comunale che sicuramente avrebbe portato dei vantaggi, così come avrebbe in qualche modo dato una mano alla regione per la risoluzione di questo problema che noi speravamo di poter far diventare risorsa. Nel momento in cui però, purtroppo, per un difetto di comunicazione sul territorio, c'è stata una levata di scudi da parte dei comuni limitrofi e anche da parte dei cittadini conzani in cui si è creata una discussione, abbiamo immaginato che fosse corretto coinvolgere tutti gli attori su questa nostra iniziativa, per cui abbiamo fatto questo passo indietro, dando modo a tutti di poter mettere in campo la propria opinione e la propria disponibilità. È ovvio che anche quello che è avvenuto in altri comuni più grandi del nostro ci ha portati a decidere in questa direzione. È normale che i rifiuti debbano essere più o meno smaltiti lì dove vengono prodotti, per cui se magari in città non è possibile fare questo poi diventa più difficile diventare solidali nel momento in cui dovremmo essere in questi territori a raccogliere quello che è il prodotto altrui.